Bentornati Wonders in questo nuovo video ASMR Oggi vi farò sentire alcuni rumori nuovi, anzi alcuni suoni veramente particolari Che io personalmente adoro e soprattutto mi rilasso tantissimo sia a toccarlo che a sentirlo Ecco qua, ho il Playphone, non so purtroppo come si pronuncia ma fa davvero un rumore bellissimo E soprattutto è molto anti-stress Bellissimo Oh, perde un pochettino di pallina Ma veramente bellissimo Veramente molto rilassante Se faccio così si screttola Ma se lo premo ritorno come primo Presumo siano delle palline in polistirolo unite con qualche strana cosa che non capisco nemmeno io cosa sia Però nonostante sia veramente strana rende questo Playform Oh, Playform Scusate, non so la pronuncia È davvero bellissimo Io da quando l'ho preso ci sto giocando da giorni perché col fatto di studiare mi è molto utile e soprattutto rilassante giocarci Perché permette di non stressarsi insomma a furia di toccarlo L'unica cosa particolare è che ha un odore un po' strano Un odore tipo plastellina Unito alle palline tipo l'istirolo Ed è veramente particolare Se faccio così si screttola Però poi ritorna come prima Ed è veramente bellissimo Fatemi sapere se vi piace il nuovo microfonino Che è piccolo ma è veramente comodo E soprattutto si sente abbastanza bene il rumore Soprattutto è molto utile per il whispering Ed è veramente bellissimo Soprattutto è molto utile Soprattutto è molto utile Soprattutto è molto utile Scusate se ogni tanto non sono dritta con lo sguardo Perché registro con il telefono e non riesco a guardare la telecamera se faccio così non mi vedo io quindi se ho lo sguardo storto per quello a volte non riesco a guardare la telecamera purtroppo comunque avevo intenzione di fare un video dove rispondo a alcune domande magari quelle più semplici e più intuitive a cui posso darvi una risposta ovviamente magari quelle più particolari non risponderò diciamo che vorrei fare un tac 100 domande magari non 100 forse un po' meno e alcune cose ovviamente non ve le posso dire però mi interesserebbe molto l'idea dato che il nuovo microfonino potrei fare gli spring mentre rispondo alle vostre domande ora vorrei farvi vedere un altro trigger molto interessante una candela però Alla prossima davvero molto interessante sembrano quelle candele sembrano quelle candele che mettono in chiesa che si appoggiano e si accendono sembra quella davvero molto interessante che si accendono buf 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 Quello che tossindi davvero molto interessante fatemi sapere se vi piace la candelina non è vero un po' di più adesso farò un conto alla rovescia per augurarvi la buonanotte 7 9 9 9 9 8 7 7 7 8 6 6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1 1 2 3 5 6 6 7 7 5 6 8 9 9 10